Finalmente è arrivato il momento di promuovere la tua azienda. Come? Con delle utilissime penne d'ufficio? Pensi veramente che una penna possa rappresentarti? E una pubblicità? Beh, certo, efficace se hai voglia di vedere dilapidato tutto il budget. Post Scriptum è un servizio di consulenza che ti offre un'alternativa. Un gioco da tavolo, divertente e soprattutto economico. Cosa c'entra un gioco da tavolo con un'azienda? Un gioco da tavolo ben progettato è in grado di trasmettere emozioni e concetti sugli argomenti più disparati, in pochi minuti. Un buon gioco da tavolo è un prodotto per tutti, senza distinzione di età o di mentalità. Attraverso il gioco il cliente diventa protagonista. Post Scriptum ti dà sei buone ragioni per realizzare un gioco su misura per te. Abbiamo la premura di studiare il mercato e i trend per proporti un gioco all'altezza del panorama attuale. Collaboriamo con i più importanti fornitori, distributori e game designer e li selezioniamo a seconda delle tue esigenze. Il gioco da tavolo è anche una passione e siamo convinti che un buon prodotto ludico debba essere affrontato da professionisti che amano il loro lavoro. Contattiamo i migliori artisti per garantirti grafica e materiali impeccabili. Curiamo ogni aspetto del prodotto, offrendo un servizio flessibile e professionale che accoglie le tue richieste e comprende le necessità aziendali. Grazie a Post Scriptum avrai la possibilità di distinguerti con un prodotto nuovo, originale ed economico. Post Scriptum. Promuoversi è un gioco. Post Scriptum. Promuoversi è un gioco.